Pillole di non solo suoni, la storia della musica, passa da noi. Un brano che inizia con il suono graffiante della chitarra elettrica, poi la voce altrettanto graffiante del cantante De Blair. E' questo l'incipit di This is a Low, un brano che proprio nel solco di quelli precedenti che abbiamo ricordato, come dedicati in qualche modo alla regina Elisabetta, la ricorda anch'esso. And into the sea goes pretty England and me around the bay of Biscay and back for tea. Queste le parole originali che suonano all'incirca così, nel mare va la bella Inghilterra insieme a me, intorno alla baia di Biscay. E torna per il tè. Il tono in realtà è quello dimesso sotto tono, verrebbe da dire, ma che in effetti ben traduce quel low del titolo. Indica proprio una bassa pressione, una sensazione quasi di fiacchezza, di trascinamento, di stanchezza, ben resa dalla voce del cantante. Cantante che è componente della band nata proprio da Damon Olburn e Graham Coxon. Amici di infanzia che hanno poi incontrato Alex e James e hanno dato vita alla band dei Blur nel 1988. Insieme i Blur sono considerati uno tra i maggiori gruppi esponenti del Britpop, movimento musicale molto popolare negli anni 90. Tuttavia, durante la propria storia, la band ha attraversato due periodi molto differenti dal punto di vista artistico. Il primo è coinciso proprio con l'affermazione del Britpop in Europa, che l'ha consacrata a stella nascente della musica anni 90, insieme a gruppi come per esempio Supergrass e successivamente gli Oasis. Poi però c'è stata una svolta, una vera e propria accesura, nel 1997, quando il gruppo si è avvicinato a uno stile più vicino all'indie rock e all'alternative rock. Se ripercorriamo la storia della band, infatti, vediamo che l'eccessiva esposizione mediatica che avevano avuto a inizio carriera aveva poi causato una sorta di reazione uguale e contraria, tale che avevano deciso di prendersi una pausa concedendosi un anno in Islanda, la terra in cui avverrà l'idea di una reinvenzione proprio del Britpop, che diventa un'idea non più stimolante, come ebbero modo di dire loro stessi. Ecco che in quel periodo, nel 1997, tra un singolo e l'altro uscì l'album Blur e questo disco, possiamo dire, che segna una notevole svolta proprio nello stile della loro musica. Con Song 2, il gruppo sfonda anche negli Stati Uniti. Il cambio di rutta viene confermato dalle pubblicazioni di singoli decisamente diversi rispetto a quelli dei precedenti album, come per esempio On Your Own e More, nonché dall'assenza dei testi nel booklet del CD e poi dalla copertina dello stesso. All'eponimo Blur fa seguito anche 13, anch'esso registrato in parte in Islanda e poi in parte a Londra e il risultato è identico, cioè primo posto in classifica e ottimi riscontri anche dal punto di vista della critica. Dopo l'uscita di Blur, The Best Of, però le strade di Damon Olburn e Grant Coxon iniziano a dividersi e tra l'altro Coxon ha anche problemi di alcol. Ecco che nel 2013 esce anche un singolo che è degno di nota perché Olburn si impegna politicamente e firma insieme a 3D dei Massive Attack una campagna contro l'interventismo degli Stati Uniti e contro il presidente George W. Bush. Nel frattempo ecco che la band comincia a lavorare anche al settimo disco, ma nel 2002 Coxon lascia la band definitivamente e bisognerà attendere il 2009 per una reunion. Da lì ecco che la band di fatto torna davvero insieme, macina risultati. Per esempio nel 2012 si esibisce Hybrid Awards dove riceve il premio Outstanding Contribution to Music. Insomma l'ultima esibizione arrivando agli anni come dire più vicini ai nostri risale al 2019 per un evento annuale organizzato da Olburn a Londra chiamato Africa Express dove ecco che la band ha suonato insieme le canzoni Clover over Dover ma anche Tender e appunto la già citata Song 2. Ed è allora il momento di riascoltare la prima che abbiamo citato cioè la canzone che fa riferimento anche alla regina This is a Low che ci porta al 1995.